Il decimo anno che Rievoluzione Calabria organizza la fiaccolata in memoria di Paolo Borsellino per noi è un dovere ricordare Paolo Borsellino, gli uomini della sua scorta, ma tutte le vittime di mafia e soprattutto di indrangheta. Quindi noi ogni anno continueremo a ricordare il 19 di luglio a Cosenza questi nostri eroi che hanno dato con la loro vita e con la loro morte un esempio per tutti. 25 anni sono trascorsi, che cosa è cambiato da allora? Rispetto a 25 anni fa è diventato più difficile distinguere chi nelle istituzioni ma anche per strada è mafioso e indranghetista. Salvatore Bruno per la C News 24.